Dopo un lungo percorso preparatorio, anche Pescara è finalmente in grado di sottoporre la popolazione allo screening di massa con i test rapidi antigenici, attività che nel pescarese diversi comuni, anche i più piccoli, sono già pronti ad affrontare. Lo screening di massa Pescara parte l'11 di gennaio, dall'8 al 10 ci si potrà prenotare sul sito web del comune. Per la popolazione studentesca pescarese lo screening è confermato per domani all'interno degli istituti di concerto con la ASL. Il tutto era stato pensato in coincidenza del ritorno in classe, ma per gli istituti superiori, per decisione del governo, la riapertura è slittata all'11. Partiremo il 7, andremo noi dentro le scuole, qualche scuola periferica dei paesi sta già facendo lo screening, a Pescara e nei grandi paesi limitrofi cominceremo il 7 con il nostro personale. Accanto alle questioni che riguardano la vaccinazione c'è anche la problematica dei nosocomi. fare i puntati su quello di Penne, dove l'ASL di Pescara ha intenzione di investire per potenziare il servizio. L'ASL non è solo Covid, non è solo screening, noi stiamo facendo Covid, screening di massa, vaccini, ma l'ospedale stanno andando avanti tranquillamente. Tutti gli investimenti e i programmi che abbiamo posti in essere stanno andando avanti, devono andare avanti. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale sanitario, tecnico, amministrativo per la grande forza, la grande collaborazione e lo spirito di abnegazione che sta dimostrando in questi giorni. Giorni di feste, giorni di feste in cui sono tutti qui, siamo tutti qui, ma io non conto niente. Contano gli altri che sono qui tutti i giorni, senza stancarsi mai, sempre con la stessa costanza che ha caratterizzato quest'ASL.